Buonasera, buon sabato, state vedendo questa foto che la conservo con un grande 18 settembre 2016, orgoglio, quando diventare cavaliere templare federiciano un inizio importante per quello che poi è stata la mia carriera che mi sposto lì nel volontariato, prima, oggi ancora, nelle forze dell'ordine adesso prima volontario, ente del terzo settore in seguito, insomma, vabbè, no, so che non c'entra niente chiusa parentesi, abbiamo adesso Inzaghi nel post partita lo suo vittorio, lancio la sigla e vi faccio vedere subito l'intervista iscriviti all'arsidona tua riserva spazio football, il calcio ogni giorno e un pochino decide la partita e poi evidentemente se vorrete vi daremo la possibilità di replicare però parto dall'importanza di questi tre punti dopo una prestazione forse non brillantissima diciamo in successione a quella di Genova però Frattesi ci diceva, è una vittoria che dimostra quanto questo gruppo sia forte e soprattutto su un campionato così lungo quanto pesino certe partite così sporche Sì, assolutamente sì, diciamo che è importante anche vincere questo tipo di partite nel senso che palla nostra, fase di possesso, la squadra mi è piaciuta abbiamo creato, dovevamo essere probabilmente più precisi nella rifinitura e dopo il vantaggio sarebbe stato tutto più semplice ma abbiamo trovato un avversario di valore che è venuto a San Siro a fare un'ottima partita e come tutte le partite nel calcio italiano non è stato semplice poi insomma gli ultimi minuti li abbiamo visti tutti, vissuti chiaramente una volta subito il gol dell'1-1 da Henry abbiamo avuto due occasioni dove potevamo segnare chiaramente prima poi abbiamo fatto il 2-1, c'è stato il rigore che abbiamo avuto contro e c'è stata una partita di sofferenza chiaramente altre volte la squadra qui a San Siro aveva fatto molto meglio però anche queste partite sono molto importanti Ecco, a proposito degli ultimi minuti che sono stati abbastanza caldi anche in panchina Sean Sogliano, il direttore del Verona, diceva oggi più che un errore è una mancanza di rispetto non so se come Inter vuole rispondere a... No, io insomma per quello che ha detto insomma ne ho perso anche io delle partite così chiaramente ci sta però penso che sia stata un'ottima partita dove sul 2-1 al 94esimo viene segnato un rigore al Verona giusto perché in quel momento io guardo Darmian e Darmian lo conosco sa di aver toccato chiaramente l'avversario Studio Mister, tra poco lascio la parola a Borja Valero ma una curiosità, cosa avrebbe fatto a Barella se la partita fosse poi finita 2-2 per quel contropiede che ha regalato a Sanchez invece di tirare in porta? No, diciamo che dato il rigore l'avrebbero annullato però non mi dispia, chiaramente volevo il gol però Barella voleva far far gol a Nigno che in campionato lo sta cercando con insistenza quindi mi piacciono anche quei gesti tra i calciatori Borja Valero Ciao mister, buon pomeriggio Ciao Borja Parlavi di poter essere un po' più bravi in quei metri finali perché avete creato in costruzione e è mancato quella cosa alla fine volevo sapere se il campo, la condizione del campo che da qua sembrava abbastanza brutta poteva incidere tanto in quel ultimo terzo del campo per essere più bravi tecnicamente arrivare al tiro e poi parlare anche di Lautaro che sembra che è arrivato e poi ha fatto 100 minuti a grande livello fisico magari tutti pensavano che poteva fare di meno Sì, probabilmente per Lautaro con un alto svolgimento della partita gli avrei tolto dei minuti finali però stava bene, non dava nessun segnale si era allenato bene questi giorni ed è andato avanti bene fino alla fine Borja per quanto riguarda il campo è un qualcosa che devono cercare di rimediare ho parlato sia per il bene dell'Inter che del Milan è in condizioni veramente critiche però al di là di quello non dovevamo essere più bravi perché quando trovi un campo non in perfette condizioni devi cercare di prestare ancora più attenzione nei passaggi, negli stop però ho già parlato con la mia società mi hanno già detto che chiaramente giocando due squadre la settimana con le partite di Coppa in mezzo non è semplice però qualcosa dovranno fare perché avevo visto anche l'ultima partita del Milan in Coppa Italia in questo momento San Siro ha grandi difficoltà Mister è ufficialmente campione d'inverno lei insieme a tutta la sua squadra, a tutto il gruppo ai primi di febbraio però ci sarà lo scontro diretto adesso aspettando di vedere a quanti punti di distanza dalla Juventus ma rispetto a quell'anno, a quell'anno in cui lo scudetto è sfuggito è finito proprio nelle mani del Milan che ha appena citato che cosa ha imparato il gruppo Inter? Cosa deve fare di diverso per gestire insomma il vantaggio questo mese particolare in cui subentra anche la Supercoppa Italiana? è che abbiamo finito il primo round che sono finite le prime 19 partite abbiamo fatto 48 punti un ottimo bottino però insomma c'è un'altra squadra che sta tenendo il nostro passo e il Milan e tutte le altre sono pronte lì ad aspettare qualche passo falso delle prime è un campionato lungo chiaramente non bisognerà preparare il migliore dei modi abbiamo fatto un girone d'andata ottimo le ultime due partite probabilmente sono state le meno brillanti ma ci sta perché ci sta da un pareggio come a Genova e da una vittoria sofferta come oggi secondo me si possono prendere indicazioni molto molto importanti mister ti volevo chiedere anche su Pavard visto che è tornato l'ha fatto a un grande livello credo che ha fatto una bella partita credo che sarà un giocatore molto importante in questo periodo di tante partite per voi sì importantissimo insomma Pavard è un giocatore internazionale che ha fatto benissimo ha approcciato benissimo l'ambiente si è inserito nel migliore dei modi poi ha avuto un infortunio importante e si è rimesso a lavorare con largo anticipo ha voluto esserci sempre con la squadra adesso sono 15 giorni che lavora molto bene oggi penso che abbia fatto un'ottima partita mister oggi c'era un volto nuovo in tribuna aspettando poi di vederlo in campo Buchanan insomma cosa dobbiamo aspettarci dalla fascia destra del futuro dell'Inter? un ottimo giocatore la società è stata brava a non farsi trovare in preparata perché abbiamo avuto il problema di quadrado che va ringraziato per come si è inserito e per quello che ha dato ha giocato una partita di champion e di campionato con un problema importante al tendine questo ragazzo arriva in età giovane però ha già esperienza internazionale ha già fatto un mondiale è un giocatore che stamattina l'ho visto allenarsi e a ottimo giocatore